un pc frankenstein buona idea buon salve buon salve a tutti i signori e bentornati qui su rama 95 youtube l'unico canale tech dove c'è il latte nella tecnologia signori bentornati oggi sono qui per parlarvi di un pc che non ha un budget non ha uno specifico utilizzo non ha niente non ha neanche un'idea del pc che ho sistemato di mio fratello ok chi ha visto la live sul cane viola sa più o meno quello che è stato fatto quindi oggi vi porto appunto un sud di quello che è successo di quello che su di quello che è stato fatto e poi vi parlo anche un po di performance che ho testato un po che il computer allora prometto che a mio fratello feci poco prima della lockdown gli feci un pc con un i5 46 70k e come scheda video una 1060 il professore lo avevo overclockato a 4,4 giga 16 giga di ram e come scheda madre aveva una z 97 ds 3 h la scheda madre che permette l'overclock si però è come vedete dall'immagine non è una super scheda madre magari appunto come potrebbe come poteva essere una z 97 a pro vi faccio un esempio permettendo che il mio fratello principalmente ha sempre giocato a titoli del calibro di formula 1 fortnite rocket league fifa vrc superbike mgpx che spero di averlo detto bene con quello di motocross e superbike presumo poi vabbè poi altri isoli minori è sempre andato bene però andando avanti con gli anni soprattutto con gli anni gli ultimi periodi appunto con sempre più introduzioni di processori con sempre più core sempre più thread soprattutto su fortnite questa cosa si sta ad essere abbastanza rilevante il professore perché avrei croccato iniziava a saturarsi si vedeva proprio che professore in tante in tanti settori di gioco si saturava poi comunque facendo il mio fratello un tecnico come scuola come istituto l'uso di autocad e tutto il resto comunque diciamo che mi dava un po' di problemi però comunque qualcosina in più gli volevo dare no e poi comunque visto che ha compiuto da poco 18 anni diciamo che ho deciso che è perfetto per diciottesimo ti faccio il computer nuovo più o meno quindi allora mi cercando nei vari insomma io ho preso praticamente alla fine un picco un blocco di upgrade più che altro pensando di sostituire la cpu più che altro che più che la gpu visto che comunque la 1060 per un modo full hd 100 hertz continua ad andare benissimo comunque puoi vedere tutto a schermo allora il processore che ho inserito è stato un ryzen 3 3100 una b5 50 come schermate una tough aso staff gaming quindi insomma una schedona per il processore e 16gb di rammi classici kit crucial ballistics che acquistai quando andarono tipo un fortissimo sconto mi sembra non ricordo se è per il black friday o prima del black friday non mi ricordo quando l'ho acquistata comunque l'ho acquistata e glielo ho messe come mvmi gli ho messo un sabred rocket da 500 giga che sicuramente è una buona evoluzione rispetto magari al pny da 120 giga che aveva in origine poi l'altro intervento che ho dovuto fare purtroppo è stato sostituire una disc da 3 terabyte che si stava danneggiando e l'ho sostituito con una disc da 2 pollici e mezzo da 2 terabyte però vi spiego una cosa è vero sicuramente più lento 2 terabyte e mezzo rispetto al 2,5 pollici rispetto a un 3 pollici e mezzo come hard disk però grazie al md stormy che è praticamente una versione di md dell'inter obtain mi permette di poter affiancare il suo vecchio ssd da 120 come cash per l'hard disk principale quindi è vero l'hard disk non diventerà veloce come un ssd ma sicuramente nell'avvio dei programmi quelli che utilizzerà più spesso sicuramente ne andrà a giocare il tutto poi il processore l'ho dissipato con un wright spire quindi l'insipatore dmd quello che diciamo veniva venduto con il 2700x e anche con il 2700x l'ho pagato tipo 10-12 euro su ebay veramente c'è stato proprio una cavolata l'ho pagato e per l'insipare quel processore va una meraviglia anche perché è pensato per tutt'altro tipologie di processore aggiornando tutto il contesto siccome appunto il processore di boost arriva a 3,9 gigahertz il che non mi faceva un pazzino ho detto vabbè dice che c'è diamone anche un'overcroccata il processore era di base a un volte 100 di v core l'ho messo a un volte due gli ho sparato 4,3 gigahertz e va una bomba risultato su cinema ci riesco a battere sia in multi che in singolo il 7700x per me è più che un è un ottimo risultato per me è un successo questo tipo di tipologia di processore la parte autocad e professionale non l'ho testata perché appunto i programmi purtroppo non sono fatta farmi dare i codici per poter installare autocad quindi diciamo che non ho potuto fare mai delle prove mai appunto di inizio a vedere se il pc laggasse oppure no però diciamo che se con il 4670k ce la faceva gestirsela alla bene e meglio mi diceva ogni tanto c'era un po di lag però non ho mai capito se il problema di lag fosse stato l'hard disk che stava morendo o era il processore che non mia faceva è arrivato che comunque non credo che avrà tantissimi problemi anche su questo fronte quindi adesso avendo un quad core 8 thread sicuramente va più forte perché purtroppo oggi nel 2022 chi ha un processore quad core secco si accorgerà che tante task tante tanti applicativi oltre i giochi iniziano a saturare un pochino tutti i core questo cosa 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 comporta comporta purtroppo il fatto che l'utilizzo di questi di queste cpu inizia essere molto relegato a non dico un disufficio però sicuramente non puoi pensare di fare chissà chissà quante cose non che più avessi tanti più però una volta tanti applicativi spingiamo più sul singolo 3d quindi sulla frequenza del 3d infatti tanti e soprattutto gli prendo l'esempio più lampante i videogiochi tanti i giochi single thread come potrebbe essere un lol come potrebbe essere un counter strike valorant lo era anche fortnite spingiamo tantissimo sul singolo 3d quindi voleva dire praticamente che se prendevo per collocavi con il sacco perché appunto essendo punto solo sul sul core singolo singolo più aumenta la frequenza più riusciva a caricarsi di lavoro più guadagnavi di frame rate ora con l'avvento della parallelizzazione di questi di questi processi ovviamente conta più solo la frequenza ma conta anche il numero di 3d che il processore ha a disposizione questo comporta infatti ho un una richiesta il fatto che oggi appunto come possiamo vedere il minimo che c'è disponibile tolti in pentium in serrano che sono diciamo la parte ufficio un i3 oggi è un quad core thread il 4100 è un quad core 8 thread parliamo adesso invece di prestazioni a livello di game ragazzi sono in posto di niente per un modulo 1080p 60 hertz è approvato abbiamo provato formule 2022 in full hd maxato 69 di media che gli devo di va benissimo tutto il testo fatto su una pista basso bagnato quindi tante particelle tanti riflessi tanto anti aliasing tante ombre quindi se 69 freni vanno bene su una pista in queste condizioni chiediamoci su una pista asciutta col sole una bomba fortnite in 1080p non epico era alto anche lì i 70 80 frame riusciamo comunque a tenerli forza rison 5 anche il dettaglio alto più di santa frame e moto gp 2022 anche lì dettaglio tutto maxato da settantina o tantina di frame cioè è vero i titoli magari sportivi di automobili adesso non sono i super graficoni magari appunto soprattutto quelli più simulativi appunto come potrebbe essere set of course così sì sono pesanti ma più che altro sul lato cpu più che sul lato scheda video quindi diciamo che il carico si sarà più centrato sul processore per questo anche l'overcloccavo sono anche per vado a farli guadagnare un po di prestazioni però è anche vero che comunque anche video fa il suo lavoro perché comunque se fosse stata una 1030 sicuramente non avrei aggiunto questi frame rate quindi comunque 166 gigabyte in questo caso va ancora va più che dignitosamente bene e come vedete a schermo consumo e temperatura ragazzi veramente non consuma niente il processore e scaldava veramente poco fate conto che sotto stress è arrivata a 63 gradi cioè veramente pochissimo quindi a livello generale allora questa build ovviamente non ha un budget né un prezzo né nulla perché appunto è stata fatta in frankenstein quindi con prodotti che avevo in casa quindi tipo il case quello che avete visto nel video nella live è il mio vecchio case nuovo top f1 quindi diciamo che quello l'ho recuperato poi la scheda video abbiamo recuperato dal vecchio pc l'hard disk da due pollici e mezzo ce l'avevo in casa l'sct avevo recuperato l'alimentatore che mi sopporto anche di libro lo Sharkoon Silent Storm Icewind da 550 watt un grandissimo alimentatore che ha recensito anche il buon file questo tempo quando uscì penso fosse uno dei migliori alimentatori dell'epoca al rapporto con il prezzo era veramente mostruoso insomma vi lascio sotto anche il link al video della recensione del buon falco capire capirete con cosa avevamo a che fare però come utilizzo come potete vedere oggi un 3100 che alla fine comunque la versione sfigata del 3.3x grande processore quando uscì uno dei processi più sbagliati che infatti se mi parlo mai tipo dopo tre mesi era già introvabile perché appunto era un processore sbagliatissimo comunque chi ha una build del genere è tranquillo cioè un pc con una configurazione del genere magari similare o superiore i dati parlano chiaro quello che vedete a schermo è abbastanza palese spero di aver detto i valori giusti perché diciamo che il video è la seconda volta che lo registro perché l'avevo già registrato ieri poi diciamo che è successo un piccolo incidente poi scoperto che il video si era corrotto quindi questa è la seconda volta che lo registro quindi spero di aver detto bene comunque i dati li avete a schermo cioè è un pc che per chi appunto vuol giocare in 360 è tranquillissimo e taglio alto ultra una bomba non ve lo sto neanche a dire chi vuol fare i sport va bene cioè io prendo fortnite e lo metto in setting competitivo non dico che tocco i 400 frame non dico che tocco i 300 ma penso che i 200 250 frame li faccio tranquillamente e cioè su un monitor a 60 hertz ha poco senso e farla oggi una build del genere da zero smi perché comunque dipende un po' che come gira il mercato sia nuovo che usato il 3100 nuovo o meno se lo ha più cioè il 4100 che però a costo di al prezzo che c'è in giro a momenti vi comprate un 4.500 che sicuramente è una scelta forse un po più più superiore sicuramente poi non ci andrà a mettere una b550 taff ma ci mettere qualcosa di un po meno perché comunque un professore del genere su una scremata del genere è un overkill disumano ce l'ho messo perché ce l'avevo in casa la scremata nel senso l'ho comprata veramente a poco e tanto siccome mi stavo lì a prendere polvere poi appunto vuoi fare regalami fratello il vetto perfetto faccio questo upgrade qui che insomma alla faccia dell'upgrade poi sono il cattivo fratello e quindi se trovate l'offertona sì ma lì il 3100 ancora oggi è un buon processore però dovete trovare un offertona se dovete volarlo veramente poco perché 86 euro su nuovo è difficile battere un processore come il 4500 non voglio dirvi che il processore del 4500 è il miglior processore del mondo ovviamente no perché si trovano delle alternative sicuramente molto superiori nella stessa diciamo così categoria di fascia di fascia di fascia bassa però a 86 euro penso che sia proprio la cosa più economica e più perfumante che potete trovare poi salendo di 20 30 euro 15 euro quello che quello che decidete più vi pare trovate di meglio sicuramente 12100 f oggi insomma costa 120 euro mi sembra 115 e va sicuramente molto meglio rispetto al 4500 a 150 c'è il 5600 a 200 euro c'è il 12400 cioè capite ce n'è per tutti i gusti però ripeto a livello proprio di base l'alternativa più ovvia al 3100 e 4500 in questo momento se notate quello poi ovviamente in questo caso vi rimando tutto alla build della settimana scorsa appunto la build da 700 euro la 1060 dovete vedere un po anche lì l'usato ovviamente meh anche lì perché il mercato dell'usato è molto inflazionato su su invidia l'invidia costano molto di più rispetto ai medi nell'usato è abbastanza pareggio se vado a cercare una 30 70 una 6800 la 30 70 costa di più della 6800 nonostante la 6800 vada di più in rasterizzazione quindi cioè capite c'è da vedere un lì è purtroppo anche un po di fattore c comunque come per la mia santa da 3 giga la 1060 da 6 vanno bene ok nonostante la mia santa in generale tutta la linea che mi santa abbia perso un po di non so sembra che abbia perso un po di tono perché cioè la 580 nonostante siano poetanee la 580 è maturata meglio nel tempo sia perché comunque 2 gigabyte in più di ram gli hanno giovato tantissimo alla 580 ma sì anche perché quanto pare md un po di maggio che deve l'ha fatta è abbastanza palese questo momento la regina per il minuto da più 60 75ers continuo a essere lei sulla fascia 20 più economica sul nuovo no sul nuovo c'è altro come regina e io spero vivamente che magari da qui a poco magari la 6.600 liscia inizia a diventare nuova regina della fascia intorno ai 150 euro scusa che allora dopo veramente sarebbe anche l'ora anche perché insomma dopo così tanti anni magari giusto che la 580 inizia anche a andare un po in pensione però vedremo vedremo signori non è un video super tecnologico insomma fatto è semplicemente questa è una build un frankenstein e diciamo così vi si è fatto un'idea di come va oggi un 3100 con una 1060 dal mio punto di vista è approvata per meno dalla parte comunque sia di un ragazzo di 18 anni sia magari appunto per una persona che potrebbe utilizzare anche auto che secondo me va una bomba io non sono un esperto utilizzatore di auto che sicuramente qualcuno che mi serve magari in fondo utilizzo molto più intensivo magari ne sa meglio anche di me a livello magari di utilizzo autocad più che altro non sapendo neanche il tipo di utilizzo autocad che ne deve fare perché non mi serve come un marito mi ha detto io utilizzo autocad bene 2d 3d capite non so neanche come quindi l'ho pensata molto di più dal lato dal lato che conosco mai di mio fratello più che dal lato dell'autocad se mi avessi spiegato meglio magari avrei potuto indirizzare meglio magari le mie risorse magari anche su una scheda video migliore o magari su un processore anche migliore un 3600 però vabbè tanto nel senso gli andrà benissimo e sono sicuro che per altri 3 4 anni non credo che si lamenti forse una cosa che dovrà cambiare tra poco potrebbe essere la scheda video forse e per rendere giustizia un processo di ragione magari una 20 60 forse sarebbe la scheda più invitata ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella le notifiche commentate e condividete il video ragazzi e noi ci vediamo al prossimo di video e anche live sul canale di viola e qui su youtube ciao a tutti